Fino a che ora sta in live stasera del doctor Lo vedi in alto a destra c'è un timer Quel timer, no che mappa di merda Quel timer indica per quanto sarà in live Ogni donazione, ma non è solo 5 Dipende ovviamente dal gioco, 5 magari Comunque, per ogni donazione Bit o sub Aumenterà il tempo Nel caso dei bit lo devo aumentare a mano E donazioni nel caso delle sub aumenta automaticamente Bene, Jane lo sessiona quindi E' andato di qua Fatto game a foot Prendiamo la seconda stack Peccato Nooo, mi sono schiantato Rip Finestra più broken della storia Questa qui E' per questo che serve bambuso al su di lui Di solito Impossibile Impossibile E' andato nel locker Strano che abbia fatto un altro fast vault silenzioso A meno che non è entrata lentamente nel Nel primo cosa Nel primo locker Eh ma sto Sto giro la mappa mi distrugge tanto Oltre 6 ore Conta che abbiamo per ora fatto 6 ore di stream E ne dobbiamo fare altre quasi 6 ore Quindi questo sarà per ora 12 ore Il tempo che farò Arriveranno fino a Chissà Dipende da voi Forse andiamo per cut loose Ah sia Quick and quiet Che cut loose Dici Potrebbe starci Boh andiamo per qualcun altro A sto punto Ma Non viene visto una lontana Non è male Eh hanno già fatto il save però Nice Quando dico che perdi Vinci Quando dico che vincora Perdi Sei sicuro? Vediamo se lo fa bene il timing No Non lo fa bene Maglia Dopo basement Eh Potrebbe essere Triple basement No Eh porco 2 Porco 2 snake Porco 2 Su cosa mi sono schiantato? Io impazzisco Questo gioco Questa mappa Giuro Giuro raga Impazzisco Niente Perso Chio Mi fate una clip Per favore qualcuno Voglio vedere su cosa sono sbattuto Sul pallet Ma come sul pallet Non è questo Ciao Ryan Questa va bene Questa va bene? Porco 2 Sto impazzendo io Per questo cazzo di Di hitbox Di merda Hit tossico Hit tossico sull'uncino No è che Stavo davanti al Stavo davanti al Locker Non era tanto Per l'hit sull'uncino Ok Se vincere Mi faccio papa Mi 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 Scusi Non posso parlare Francia Posso parlare Inghilish Se vuoi Ma Francia Non è Rillima Language Che cazzo è Non so cosa state scrivendo Raga Mi state confondendo Fregatissimo Il bubo mi fa troppo ridere Quando usa la motosega Comunque Per i versi che fa O Per qualcos'altro Non te la cavi male Ok Grazie Oh c'è qualcuno Tipo qua I versi di comandeggia A destra e a sinistra Onesto A sto punto abbiamo sia E che c'è qualcun altro qui E infatti eccola qui Proviamoci L'altra è morta Tanto Perfetto Dobbiamo capire ora Chi è l'ossessione Dobbiamo fare Nel M1 Solo Sessione Cercare di comprendere Chi sarà E' sopra di me Sì Non c'è molto Da guadagnarci Nesto drop Oppure sì Mi ha fatto lei Non è lei Non hanno toccato più un jam Comunque No Per fortuna no In quel punto Nel basement Stavo per vincere Instantaneamente Non ho vinto Ma mi ha fatto recuperare Comunque tanto tempo 2 su 11 Non è comunque Un buon ratio Salvo Lasciatelo dire Mi spiace dirtelo Ma Sono Qualcuno è corso di qua Perché vedo del sangue Camminato Non corso Qua poi è corso Ok Sprint forse Ed è lei Cioè non è usato La finestra più broken Della storia Ah già che c'ho Spirit fury Mi dimentico di spirit fury Credo sono bubba Quindi me le mangio I pallet di solito È troppo bella La gonnellina Quando ti lanci giù Ti svolazzo Fino alla tua faccia Dai Parco 2 Sempre Un fucking centimetro L'improvviso Non è vincere Ma a bettare Ah vabbè Potrebbero recuperare adesso Questo perdito di tempo Che sto facendo Potrebbero essere A dei gen Bam Era diventata l'ossessione Paccato che lei È da Donuc Quindi Non ci servirà molto Addio signorina Mi è stato un piacere Conoscerla Voi sull'uncino E muori Ma qualcuno ha urlato Quindi qualcuno è un gen Però 2 Mi parevano di urla Addirittura Quindi potrebbero essere insieme E sembra quello Perché mi sembra Muoversi tanto Sì Era questo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 Muori Più betto E più mi sento felice Ripeto Non è una cosa buona Non ce ne devo dire L'ultima boss parita Non si è mai fatta vedere Ma The Rook C'ha quella fang Niente cose Della bet Crack 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 Ok io ero qua eh Su questo Il problema sapete cos'è Questo sasso Che è così Ha un hitbox alta Così e così Insopportabile Cazzo Porco 2 Che odio C'hanno degli hitbox Che sono veramente Terrificanti C'è anche qua Ok Guardate qua Cosa ha colpito Capite Capite Com'è possibile Il sasso è alto così Cazzo Manco gli ho tirato La minioasa del piede Ah che male Ah che male Ah Così fa Bubba Tira una minioasa del piede Inizia a urlare Porco 2 Che odio Bubba di merda Ah 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 E C'è un